cari amici appassionati di letteratura bentornati ad un appuntamento con la voce degli scrittori feste finite speriamo che abbiate letto tanto visto che i nostri consigli non si sono fatti mancare neanche durante le festività adesso siamo pronti per ripartire lo facciamo alla grande ripartiamo con una bella storia e lo facciamo presentando intanto la nostra prima autrice del 2015 buonasera rosalba volpi buonasera con i merli dal becco giallo stampato con you can print ringraziamo anche gli ottimi colleghi di rubulab che poi hanno aiutato con i loro servizi editoriali partiamo con questa storia bella responsabilità partire con il primo libro da consigliare a tutti i nostri amici a casa ricordando che poi tutte le puntate perse possono essere riviste sul nostro canale youtube semplicemente la voce degli scrittori così come la nostra pagina facebook la nostra applicazione siamo ovunque non avete scuse per perseguirci dunque una storia affascinante cerchiamo di capire da dove è arrivata l'ispirazione di questi merli dal becco giallo allora la contingenza l'occasione si potrebbe dire che autobiografica però poi la storia ha tentato e spero ci sia riuscita di trascendere il momento autobiografico di avere un significato diverso se in fondo è un percorso di una donna che si trova a fare conti con l'elemento maschile con l'elemento femminile con l'amore platonico per una collega che incontra in un suo viaggio da pendolare a lucca e che sconvolge un po' il suo percorso appunto esistenziale portandola a rivedere anche il confine tra natura cultura appunto tra il maschile e il femminile dove il simbolismo della fiaba ha anche un peso particolare che non so se avrò il tempo di spiegare ma almeno ci faccio riferimento come no prego prego la fiaba che scelgo che sceglie l'io narrante come la fiaba che più la rappresenta è Hansel e Gretel e questo proprio si riferisce un po' al tema anche del Zosia del maschile e del femminile dei due fratellini che nella solidarietà fra di loro cercano di salvarsi dalla strega che li vuol distruggere poi chi leggerà il romanzo vedrà come l'esito della fiaba mentre la fiaba preferita dalla donna che viene diciamo amata da questa amica incontrata in questa esperienza di Lucca è la fiaba la bella addormentata nel bosco che ha tutto un altro significato perché è come un offrirsi alla contemplazione nel sonno e agli eventi senza però prendersi la responsabilità di reagire agli eventi. Questo filone è importante fondamentale tra l'altro a Telecamere Spente Rosalba mi diceva della sua grande passione per la filosofia quindi comunque sono sempre spunti che fanno riflettere e che potete prendere in tutte le loro sfumature soffermiamoci però su questa amicizia amore tra le due donne. sì diciamo subito che il riferimento è platonico non perché la storia e non solo perché la storia non viene vissuta carnalmente e non c'è nemmeno il desiderio di viverla in quel modo ma è anche platonico perché c'è proprio un riferimento filosofico all'eros platonico che in fondo è nostalgia di qualcosa che abbiamo perduto di una perfezione di una dimensione eterna del tempo di una bellezza che trascende la dimensione dell'apparenza carnale. Crede che sia recuperabile questa bellezza perduta e come? il recuperabile è a livello di immaginario se vogliamo di simbolo di immaginario ma quello che è intenso è l'esperienza di trovare nella dimensione chiamiamola così terrena in una persona reale di trovare un'ombra un riferimento è stato messo io ho scelto la frase di montale è possibile amare un'ombra nel frontespizio no ombre noi stessi cioè in fondo non è reale lei non sono reale io e c'è il significato profondo del rapporto in questo rispecchiarsi la differenza tra io dico io perché si riferisce anche a un'esperienza autobiografica ma in realtà cerca di essere più universale la differenza tra l'io narrante e la persona di L che non viene nominata con un nome esteso ma con uno pseudonimo L punto sì sono poi tratti caratterizzanti fondamentali anche perché non è semplice partire con esperienze pensieri autobiografici per riuscire poi ad arrivare a toccare ogni singolo lettore ciò che è veramente poco platonico è il concetto di amore visto anche nel lato più trasgressivo che è fondamentale è sempre centrale nel testo ma infatti l'eros platonico è poco conosciuto ma l'eros platonico non è quello che è stato interpretato dalla tradizione religiosa cristiana e non esclude affatto la sessualità o l'attrazione l'innamoramento classico però non è quello il punto il punto è che l'eros è nostalgia di qualcosa d'altro e comunque appunto c'è la trasgressione la trasgressione non consiste tanto nel fatto che non è un amore nei canali previsti dall'eterosessualità non consiste tanto in quello forse la trasgressione è proprio nell'avere un'esperienza sublime divinizzata con un essere che non è divino insomma ma che viene divinizzato nel contesto quando si vede la protagonista che da bambina va alla messa e prega Dio perché gli conceda che Mina che è la sua dea del tempo non è il suo idolo ma per la quale prova anche un'attrazione erotica si capisce che Mina la venga a prendere a scuola questa è la trasgressione poi i rapporti con gli uomini che vengono anche raccontati anche sessuali sì sono trasgressivi perché sono al di fuori dei tabù però è una sessualità che non dà nemmeno quel gran piacere il piacere di un minuto passato con l'amica è ben superiore però è trasgressivo ed è erotico l'hai presa e l'hai analizzata dal punto di vista più basilare, essenziale questi esempi che ci stai facendo così come essenziale è il legame tra gli aspetti individuali e quelli politici altra tematica anche non semplice da affrontare è vero però qui bisogna pensare che io sono una sessantottina cioè che l'autrice fa riferimento a un'esperienza che è quella del 68 ed è quella del femminismo dove c'era uno slogan che parlava di immaginazione al potere e poi c'era una pratica del femminismo che era la ricerca di rendere personale il politico e politico il personale e questo ci è entrato nella carne e nel sangue non è qualcosa che abbiamo vissuto superficialmente e forse anche nel libro riemerge non è possibile una storia personale senza che abbia anche uno sfondo e un significato politico non è possibile una storia politica senza che non ci siano delle emozioni fortissime gestite e vissute anche a livello personale per capire questo va a letto domanda secca accezione è unicamente negativa quindi legata a questo discorso? era imprescindibile legarlo anche a discorsi politici? no perché è negativa? qui non ti ho capito no non è solo negativo perché comunque delle volte si dice che c'è per forza una parte, una vena politica che entra un po' in tutti i campi questo lo sentiamo in tantissimi discorsi in questo caso non è così specifico perché proprio su queste poltrone spesso abbiamo fatto ragionamenti del genere no no un'accezione positiva la tua è positiva? nel senso dell'utopia cioè l'utopia anche nel campo politico che viene coltivata con la speranza di realizzarla perché nella mia generazione questo filo della storia era qualcosa di concreto era un sogno ed era anche in qualche modo anche una realtà così come l'amore per questa donna c'è la dimensione del sogno ma c'è anche la possibilità di trovare un punto che dovrebbe essere però il problema è che l'altra in questo caso non è consapevole cioè lo vive anche lei in qualche modo forse in qualche modo è amore anche per lei qualcuno l'ha detta alla presentazione a Livorno però non ne è consapevole, ne ha paura cercando un punto di contatto il nostro di punto di contatto con le amici a casa è l'andare a dar vita alle parole adesso lo facciamo come sempre ringraziando la nostra attrice Valentina Ghetti con il testo di Rosalba Volpi i merli dal becco giallo come puoi essermi così ostile? quando e come hai deciso di essermi così ostile? il filo d'argento rimbalza contro l'arcata sopraccigliare mi respinge indietro come il raggio laser nel duello fra Anakin e Obi-Wan nella scena finale di Guerre Stellari non ho possibilità di raggiungerti né per telefono né per lettera ho anche provato manovri di accerchiamento ma non me ne restano molte altre disposizioni perché attraverso i pochi amici comuni e colleghi di scuola ho già ricevuto un tuo fermo rifiuto riferito da loro con scuse e parole gentili non mi resta che tentare il grande colpo la gerarchia ecclesiastica in altre parole cercare un contatto con il tuo consigliere spirituale il suicidio l'ho già accantonato sia perché se fallisse dopo tu diverresti ancora più diffidente nei miei confronti per la mia dimostrazione di debolezza sia perché se invece riuscisse darebbe luogo a una situazione in tutto e per tutto identica all'attuale morte per asfissia da rifiuto passaggio assolutamente intenso sottolineato dalla scelta musicale della nostra attrice si parla addirittura di suicidio come mai? allora intanto vorrei dire una cosa il tema del suicidio emerge più volte nel romanzo è una specie di tentazione è uno dei punti che ci rende simili me e elle lei voleva fare una tesi sul suicidio nonostante sia una cattolica da tempo e rispetto alla protagonista è più conformista è più inserita in una normalità voleva fare una tesi sul suicidio e uno dei suoi grandi amori si è suicidato e lei stessa dopo la morte del padre ucciso dai terroristi di sinistra non proprio dalle Brigate Rosse è un episodio reale lei dopo la morte del padre ha tentato il suicidio per me invece è stata una tentazione solo immaginaria in tanti momenti della vita quindi è una delle cose che ci rende simili è una cosa per me superata nel mio percorso esistenziale come tentazione per lei non lo so e comunque in quel caso volevo soffermarmi un attimo su questo a dire poi di quanto tu voglia dire ecco perché hai voluto dare questa importanza e parlare in maniera così approfondita quando più quando meno direttamente del suicidio visto che poi abbiamo parlato di riferimenti anche autobiografici perché in fondo in mancanza di questo contatto con l'altro di questo riconoscimento già la nostra esistenza viene annullata se per ipotesi tutti gli altri non ci riconoscessero come esistenti noi saremmo una nullità se non c'è uno specchio che ci rimanda a maggior ragione se lo specchio è così importante perché è il tuo sosia quello in cui te ti sei riconosciuta noi siamo tre in fondo io, lei e lo specchio in un certo punto del romanzo questo viene detto questo suo non riconoscimento mi svuota di significato l'esistenza in un certo senso rispetto a lei anche se lo mantiene con tutte le altre persone quindi non mi suicido la protagonista non si suicida però c'è un momento in cui lo pensa e poi c'è anche un dolore veramente è un'emozione un dolore forte un dolore forte c'è un'altra cosa che io dico mi è auto uscito a un certo punto dico che però col dolore ho imparato a convivere è la gioia che mi frega la gioia è il sentimento che più ti porta al suicidio non è il dolore perché quando ti viene a mancare quella gioia che nell'amore è fortissima allora davvero viene la tentazione del suicidio non è quando sei depresso è quando hai perso la gioia e questo passaggio è molto filosofico tu lo sai benissimo ci sono servelati tanti filosofi anche per parlare di questa assenza di gioia poi porta anche a tali pensieri o perdita di gioia la perdita di gioia più che l'assenza perché prima ci deve essere altrimenti non viene percepito in maniera così forte però qual è il sentimento che maggiormente secondo te può pervadere l'animo del lettore facendo un po' la somma tirando le somme di tutto il testo di tutto il racconto ti ho riflettuto in treno visto che vengo da lì il movimento stimola sempre quindi va benissimo e ho pensato che è proprio la paura della gioia che è qualcosa che abbiamo in profondità perché è quasi un senso di colpa e quindi la tentazione di rifugiarsi in una vita più piatta conformista di non gettarsi nelle passioni più forti o nelle esperienze più coinvolgenti per paura di soffrire per perdita di quell'emozione forte ma una paura che la protagonista non ha anche se è consapevole di quanto è doloroso quindi può aiutare può essere in parte propedeutico come testo da questo punto di vista sì io ho visto molte persone ritrovarsi nelle maniere più differenti in questo testo e questa è la soddisfazione più grande per lo scrittore che credeva di aver parlato di sé e che invece sente che è andato oltre perché le persone con esperienze più diverse hanno trovato uno spunto un riconoscimento ma spesso specialmente nelle donne è questa paura anche di rinunciare a un ruolo confortante di schiavitù che abbiamo vissuto nel passato e di provare a vivere libere è una grande paura anche questa per me il libro invece è stato anche terapeutico perché ha rimarginato quella ferita quella cicatrice che era rimasta perché vivere fa questo esatto questo è importantissimo e queste due parole secondo me ma penso che saranno d'accordo anche molti degli amici a casa e dimostrato oltre di essere una buona scrittrice anche una bella persona perché è un intento che poi è assolutamente tutto fuorché egoista anzi è molto altruista seppur sempre partendo da uno spunto personale è un po' egocciente come altruista però quello che emerge di più dal testo anche sfogliandolo in maniera immediata già dalle prime pagine posso assicurartelo noi ci fermiamo ci sembra doveroso dare questo momento del solito aforisma che poi vi regalo per un grande artista che è scomparso purtroppo in questi giorni artista che ha fatto emozionare Napoli e non solo tutti noi e ovviamente le parole in questo caso sono sempre solo di troppo e quindi ci limitiamo a questo io ci sarò ad alzare il vento pensaci bene e poi fai posto al sentimento bentornati nel nostro salotto letterario non vi siete mossi avete fatto bene anche perché abbiamo un altro passaggio da regalarvi ancora tante emozioni da condividere insieme così come con la nostra pagina facebook la voce degli scrittori potete anche cercare di entrare veramente nel nostro salotto sappiamo che ormai il nostro popolo è un popolo di scrittori assolutamente con dati che vanno oltre quelli dei lettori certo questo è un po' discorde come è dato no Rosalba però è comunque un segnale positivo perché è propositivo come a livello di iniziativa quindi anche sul canale youtube per tutte le puntate che vi siete persi e l'applicazione ricordiamo che è partita anche una rubrica quindi siamo anche sui quotidiani con l'opinione ringraziando sempre il grande direttore Arturo Diaconale che poi ha permesso questa mia rubrica letteraria sempre la voce degli scrittori ogni sabato ricordatelo ci sarà un testo suggerito quindi siamo veramente ovunque ringraziando sempre ancora l'opinione per questa possibilità di collaborazione ora andiamo a regalarvi un altro estratto del testo di Rosalba Volpi i merli dal becco giallo lo facciamo sempre attraverso la voce della nostra attrice Valentina Ghetti un breve tratto nella penombra umida del passaggio attraverso le mura poi la luce piena della piazza col soprato rasato di fresco e lo splendore discreto del marmo di Carrara che lasciava indovinare il mistero della sua Ilaria del carretto nascosta tra le pieghe stesse della pietra a riparo dagli sguardi solo un'ora prima il treno era partito lasciandosi dietro una scia di nafta bruciata che si ingolfava nell'aria ferma del mattino entrando e uscendo liberamente dai finestrini spalancati anche se distratta dal viaggio dai ronzini meccanici del treno e dal verde dolce della campagna che scorreva oltre il finestrino come sulla pellicola di un film non mi sfuggì il senso di una brusca frenata di una sorta di balzo all'indietro dalla memoria una brusca frenata è quella che facciamo anche noi in questo punto perché non abbiamo parlato di un altro scenario importante quello che riporta il rapporto con la natura infatti allora il rapporto con la natura in realtà è anche qui è un rapporto un po' fiabesco un po' legato all'immaginario cioè non è la natura in quanto è reale è anche reale ovviamente e spesso l'autrice vi si immerge ed è anche un momento di consolazione però è soprattutto una natura contemplata quasi con lo stesso spirito con cui si contempla la statua di Laria del Carretto o la persona amata sono momenti di contemplazione estetica e in questo senso non è in contraddizione con lo spirito anche di altri aspetti è una contemplazione che è anche un po' rivoluzionaria è una visione estetica che fa vedere il mondo un po' alla rovescia anche la dimensione del tempo la brusca frenata sa perché fa vedere il mondo alla rovescia? perché il mondo per coloro che lo guardano come qualcosa di molto oggettivo e reale è come è invece per chi lo guarda con lo sguardo dell'arte è anche una parvenza è qualcosa che accenna ad altro anche una dimensione trascendente per esempio e questo c'è ci sono queste radici contadine anche in questo caso chiamiamo la parte autobiografica non so perché c'è sempre una sottile confine che ci divide ho delle radici contadine e mi fa piacere averle però in questo caso invece il rapporto con la natura è più ambiguo è più ambivalente è qualcosa che ci tiene il più legati alla terra qualche volta anche all'umiltà della dimensione terrestre agricola e in questo caso torna in ballo la condizione della donna che in una civiltà contadina non è certo una donna liberata non è certo una donna trascendente ma è una donna si può dire terra terra e in questo senso c'è un conflitto che l'autrice vive dentro di sé e anche la collega e amica e donna amata anche lei ha radici contadine anche lei ha vissuto questo conflitto un po' il senso di colpa di essere andati oltre i limiti del ruolo femminile tradizionale legato alla terra e alla maternità e a questa dimensione più concreta e meno platonica addirittura un senso di colpa forse sì non so se emerge bene nel romanzo ma c'è sicuramente c'è un'evoluzione la curiosità per chiudere questa tematica e vedere comunque come ci fossero magari dei passaggi positivi qualcosa di positivo nella donna di quel tempo delle origini delle radici anche tu insomma l'hai ricordato ora ne vai fiera comunque vediamo dove anche ti ha portato non è anche in questo caso non emerge la parte negativa nonostante si evidenzia fisiologicamente questa limitazione che c'era che in parte c'è ancora diciamo il positivo è il filo conduttore averci una storia alle spalle averci delle radici la terra è radice non è detto che il rapporto con la terra con la natura anche con la dimensione contadina sia vissuto come schiavitù e oppressione si potrebbe vivere anche in un altro modo e quindi il momento che io racconto è un momento di passaggio perché questa è la mia storia se io sono nata negli anni 50 io ho visto una povertà anche cittadina non solo contadina e un boom economico che ci ha allontanato dalle radici contadine anche troppo ci ha allontanato quindi c'è questo bisogno anche di ritrovarlo questo filo e questo è questo è un bel messaggio vedi la possibilità in questo momento di crisi un po' totale anche e soprattutto personale anche e soprattutto di spirito potrebbe servire a riavvicinare se ne parla in questi giorni continuamente anche perché i dati parlano chiaro c'è un tasso di disoccupazione che continua a crescere ma spesso poi ci sono tanti posti invece offerti e che rimangono libri in quest'altro campo infatti bisogna lanciarsi nel riconquistare anche dei lavori che sono stati abbandonati delle dimensioni che sono state abbandonate ma senza per questo rinunciare a un'idea di benessere ma non al consumismo inutile ma ritornare a un'idea di un consumo più di filiera breve ora a questo punto mi chiedete una cosa politica e io ve la dico io faccio parte anche di un'esperienza di orti autogestiti a Livorno e quindi questo torna ritornare a una visione dell'orto della campagna che però sia qualcosa che non ci rende schiavi ma che ci libera in un rapporto però di rispetto verso la natura che la natura va saputa anche rispettare non dobbiamo violentarla e consumarla e farla nostra che poi ci uccide e si rivolta contro di noi tra l'altro questo era uno scenario che spesso per quanto riguarda e concerne l'ambito familiare aiutava a avere dei legami più saldi più forti perché poi c'era anche una maggiore responsabilità verso l'altro quindi potrebbe essere anche un'altra sfumatura per una soluzione ma ci fermiamo perché effettivamente dal punto di vista politico apriamo parentesi lunghe e pericolose soprattutto siamo quasi in chiusura mi ha colpito prima sul finale della prima parte quel discorso della cicatrice che in realtà in te è stata rimarginata perché io ti ho chiesto se eventualmente avesse lasciato a te una cicatrice questo testo poi sempre in senso simbolico invece cosa è successo? intanto bisogna considerare che il testo è stato pensato e scritto di getto negli anni 90 e quindi in una fase molto diversa della vita e poi riveduto e corretto in una visione quindi già il fatto di scrivere porta alla guarigione in un certo senso non sono la prima che lo dice e credo sia successo a autori come Flaubert a persone che avevano anche dei disturbi mentali e che attraverso lo scrivere sono riuscite in parte a gestirli e a sublimarli per questo anche se non me l'hai chiesto ti dico che la prossima cosa che cercherò di pubblicare che da cui sto lavorando è una raccolta di racconti che dovrebbe intitolarsi le anime marziane che dovrebbe avere come protagonisti persone che sono anche un po' al di sopra della realtà delle figure anche di attrici di personaggi famosi oppure anche della mia vita personale come la mia mamma o altre figure del genere un occhio totalmente esterno un occhio esterno dall'alto che ci guarda questa volta attento di essere più esterna e di far vedere che forse esistono delle realtà intermedie o superiori a questa che è anche un po' bassa in cui siamo immersi ti sta incuriosendo parecchio comunque te l'avrei assolutamente chiesto mi hai anticipato figuriamoci anche perché no chiudiamo sempre con i passaggi per il futuro mi hai anticipato anche l'altra domanda per il finale perché volevo un po' capire come spesso cerchiamo di fare perché gli amici a casa sono incuriositi di capire come è nata la passione per la lettura e per la scrittura poi vabbè io ho imparato a leggere da sola perché avevo fredda di leggere autodidatta appena ho cominciato no avevo mio fratello che è un anno e mezzo più di me che ti ha aiutato andava a scuola lui non mi aiutava ma io andavo lì volevo essere alla pari con lui come al solito si 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 vede anche nel romanzo quando parlo con la mia anima bambina che dicevo che volevo essere un maschio ma non ci sono riuscita perché capivo che erano più avvantaggiati di noi poi dopo ho cambiato idea in corso d'opera sono più vantaggioso essere donna e per scrivere? e per scrivere ho cominciato subito la penna oppure i tasti lo stesso a 5-6 anni ho cominciato subito a scrivere poesie però il sogno era ho scritto un racconto breve ora di recente che si chiama Precocità dove dico che a 6 anni ho deciso di non aver figli e di non sposarmi poi mi sono sposata ma non ho avuto figli a 6 anni avevi deciso? sì avevo già deciso potete trovarlo questo racconto perché ma l'hai lasciato per iscritto? l'avevi già scritto? è un racconto con cui ho vinto è stato pubblicato dall'Arci di Siena si chiama Precocità ma racconto una cosa vera che avevo deciso a 6 anni di non aver figli e di non sposarmi però sognavo di una vita da scrittrice e mi vedevo in questa casa luminosa dove io aggiustavo le frasi scrivevo e il sogno era questo la scrittura ma è stato un sogno che ho realizzato forse tardivamente perché prima scrivevo ma scrivevo per me oppure scrivevo saggistica insegnando filosofia avevo scritto qualcosa che è stato pubblicato sul rapporto tra letteratura e filosofia in Sartre in particolare nell'esistenzialismo e poi finalmente in pensione ho più tempo e ho provato a scrivere letteratura ho provato a limare questi testi e vediamo se ci sono riuscita e se riuscirò ad andare avanti anche su questo filone piena di idee piena di risorse un passo all'interno un passo all'esterno quindi abbiamo capito che probabilmente la ritroveremo qui chissà con quale tipo di testo anche se ci hai dato questa anticipazione intanto è stato un piacere e non so se ci sono presentazioni in vista che possiamo approfittare visto che siamo qui per promuovere Sì, il 22 di gennaio facciamo una presentazione a Viareggio in una struttura autogestita da Sinistra Anticapitalista a Viareggio che è sempre nell'ambito poi ci sarà una presentazione non so ancora la data a breve a Cecina a Larci e poi ce ne sarà una a Milano sempre in una struttura autogestita però anche mettendo in gioco una libreria ancora non so bene quale e come e poi di sicuro a Roma dove noi abbiamo una casa editrice dell'edizione Allegre che però pubblica testi politici e poi c'è un gruppo femminista che si chiama The Gender che mi darà un appoggio per fare questa presentazione per finire a luglio alla caffeina di Viterbo con la casa editrice Lubulab queste sono le cose che ora pensiamo di fare bene bene tante iniziative da qui a lungo termine Valentina ti sono piaciuti questi merli dal becco giallo? moltissimo perché no vabbè dal poco insomma da quello che ho detto esce veramente poco del mondo che c'è dietro c'è questa commissione tra l'essere donna la sua complessità il contatto con la natura la paura della perdita veramente complimenti e noi la ringraziamo la nostra attrice Valentina Ghetti per averci prestato ancora una volta la sua bella voce ringraziamo la nostra autrice devo dire anche molto televisiva assolutamente vedo che è stata molto a tuo agio Rosalba Volpi con i merli dal becco giallo l'hai ricordato ricordiamo anche noi ringraziamo You Can Print che ha stampato il libro e i colleghi anche amici conosco personalmente quindi assicuro di Lubulab che poi hanno curato l'edizione del testo ringrazio il forico il regista tutti i tecnici e voi a casa per questa settimana abbiamo concluso abbiamo dato già un altro bel consiglio da approfondire c'è il fine settimana a disposizione noi ci rivediamo sempre qua alle 20.35 quindi direttamente la prossima settimana sempre in prime time sempre con la voce degli scrittori da Michele De Angelis un saluto e buona lettura iscriviti al nostro canale